La fontanella di alta qualità in via Vittorio Emanuele II ha riscosso successo e sono sempre di più gli utenti che si fermano a riempire contenitori con l'acqua che esce dai due erogatori. Il problema è però la sporcizia intorno alla fontana. Come si vede dalle immagini, i giardinetti e la panchina dietro la fonte sono un ricettacolo di cartacee plastica abbandonata da chi frequenta la zona per diletto o per necessità, quella appunto di prelevare l'acqua complice forse anche la copertura che dà la struttura stessa, che nasconde alla vista chi sta dietro e che quindi evidentemente si sente più libero di abbandonare ogni sorta di rifiuto invece di metterlo, come sarebbe buona pratica, dentro il cestino di cui è provvista l'area. E come si vede possiamo anche dire che una pulitina periodica della fontanella stessa non sarebbe male, visti i numerosi utenti che vi si fermano e la sua posizione proprio di fronte agli scali dei traghetti e punto di passaggio pedonale tra le ghiaie e il centro storico. Di fronte a questo abbandono chiediamo che almeno gli enti competenti sopperissero alla mancanza di educazione e di senso civico che contraddistingue i frequentatori della zona.